Aspettiamo che la guerra finisca, non muoviamoci per una decina d'anni. Lasciamo che siano gli stronzi in superficie a saltare per le radiazioni. Noi possiamo farcela qui. Mi sembra una buona proposta. Mi piace. Voi che ne dite? Vediamo cosa succede. Hai l'impressione che ci sia qualcosa che non vada qui? Proprio così. Anch'io. Volete tornare in superficie ad arrostire? Credo che dovremmo vagliare ogni possibilità, tutto qui. Eh, noi controlleremo tutto. Controlleremo ogni angolino. Beh, vi dico una cosa. La sottoscritta sta vagliando la possibilità di andare a farsi una doccia calda. Ne ho abbastanza di discussioni. Sarà meglio che faccia la guardia.